Ups, tutti, 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 miei cari Upsini, Upsine, come state? Come, come, come state? Spero bene, dai. Oggi sono troppo, troppo, troppo emozionato perché è la prima volta che registro ufficialmente qua in camera mia dopo ormai qualche mese, due, tre mesi più o meno. Quindi, riprendere le abitudini vecchie, bello ma anche brutto perché tutto ricomincia appunto. Però, io sono qua, 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 solo per te, per riuscire a farti rilassare. Quindi, indossa subito un paio di cubi o auricolari, stenditi sul tuo letto oppure, non lo so, sul divano e prova a chiudere gli occhi, va bene? Ok, il video di oggi sarà un video in realtà molto, molto semplice perché sarà un video di preparazione al rientro a scuola. Come sempre uscirà giovedì questo video, quindi in realtà sarà ormai quasi passata una settimana di scuola. Quindi, vi chiedo subito, com'è andata questa prima settimana? Ora, se avete qualcosa da dirmi, lasciatelo in un commento qua sopra. Però, per me che sto registrando sono esattamente le due di notte del 10 settembre, quindi per me domani sarà il primo giorno di scuola e devo prepararmi ancora mentalmente. Io quest'anno, per chi non lo sapesse, andrò in quarta superiore, in un liceo scientifico, indirizzo scienze applicate. Ma basta parlare, o non lo so cosa ha il naso, che mi brude un botto, vabbè. In questo video farò qualche piccolo trigger con degli oggetti che si trovano nel mio zaino di scuola, appunto. Ne ho anche altri, io ho veramente un botto di roba nello zaino, però questo è. Possiamo iniziare con qualcosa di semplice. Dei vari portapenne. Con l'appunto penne, pennarelli, evidenziatori, tratto penna. Questa è una di tanti che ho. Ma ho anche, per dirvi, questa busta con solo tratto pen, perché quello lì aveva tratto pen evidenziatori. Appunto perché Andare a scuola senza penne, matite, o comunque senza un po' di cancelleria, è veramente inutile. E adesso però sono qui per farvi fare un giochetto. Sono qui, sono qui, sono qui per farvi fare un giochetto. Allora... Come sempre faccio casino. Ho qui due penne. Due classiche, classiche, classiche penne. Adesso le metterò un po' di po' qua vicino e le farò allargare. Tu mi dovrai dire quanto non le vedrai più nella tua visuale, va bene? Va bene? Sei pronto? Oppure pronta? Ok, cominciamo. Io le metto qui. E le allargo, le allargo, le allargo, le allargo. Ok. Perfetto. Perfetto. Riproviamo. Le metto così. E le allargo, le allargo, le allargo. Perfetto. Un'ultima volta, nell'altro lato. Quindi le metto così. E le allargo, le allargo, le allargo. Ok, perfetto. Perfetto. Adesso, subito, 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 per richiamare sempre la tua concentrazione, facciamo un altro giochetto insieme, va bene? Molto semplice. L'avrai già visto. Proprio perché ho due penne. Farò Oppure E Tu, 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 mi dovrai dire Se l'hai sentito nell'orecchio sinistro O nell'orecchio destro Va bene? Ok. Allora, iniziamo subito. Quindi, tre, due, uno Da quale orecchio? Perfetto. 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 Adesso vi ho fatto praticamente vedere un po' la parte, diciamo, di cancelleria Che ci deve essere un po' zero. Ma cosa che io trovo anche molto, molto importante È un diario, è un diario, un'agenda, qualcosina così? Io quest'anno ho deciso di non prendere un diario perché ho capito che sarebbe stato uno spreco che non l'avrei utilizzato perché un classico diario scolastico non lo utilizzo. C'è il registro elettronico, i compiti li vedo da lì, non me li devo scrivere. Quindi ho pensato che un'agenda che ho preso così fosse l'opzione migliore. Questa, come vedete, ha Gli anellini in oro, ed è appunto nera in oro. Fu solo stupendo. Duemila, veintitre, eh, duemila, ventiquattro, no? la trovo proprio elegante e dentro è un'agenda con quindi tipo il monthly planner, poi tutti i singoli giorni, utile per segnarsi diverse cose, io segnerò sopra sia gli impegni scolastici sia magari le varie cose che mi servono per youtube per esempio, oppure se dovrò fare qualche altra cosa è molto più comodo ecco, poi prossimo oggetto, i mancabili fogli quaderni, io utilizzo sempre un po' io quadretti con questi anellini alla fine e ne utilizzo sia di formato così piccolino, esattamente come l'agenda, questo in realtà in particolare non lo uso a scuola, lo uso per fare coreano o guagala, oppure però dicevo, formato aiuto un po' più grande, quindi un classico quaderno, cioè vedete, è più grande, sempre con gli anellini, devo fare attenzione a maneggiare questi oggetti che mi cambia il colore della luce, anche se secondo me l'ho già fatto, però vabbè, e quindi io uso praticamente questi qui, in passato usavo molto di più i raccoglitori, quelli ad anelli, quindi mi sentavo inserire i fogli, però mi trovo comodo anche con questi, mi trovo comunque molto estetic, perché io cerco comunque di essere estetic quando faccio anche a scuola, perché non so, mi piace vedere anche le cose in ordine, tutte carine da vedere, mi aiuta molto, ecco. Poi, scusate, altro oggetto che secondo me a scuola serve, soprattutto se fai un liceo scientifico, una calcolatrice. che ci sono? No. No. No, no. 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 Scusate ragazzi se questo qui sarà in realtà un video un po' mix tra body tapping e body whispering. Però ho letto esattamente qualche giorno fa che è un commento che mi avete scritto che il mio whispering però vi rilassa molto. Sono felice di questa cosa perché il mio whispering è comunque la mia voce, non è la mia voce piena ma è la mia voce sussurrata diciamo. E sapere che questa vi riesca a rilassarvi vuol dire che in qualche modo la sicurezza vi dà sicurezza. Ed è molto molto bello, cioè sono felice di aiutare le persone sotto questo punto. Sì scusate se il video di oggi è un po' così ma avevo anche un po' d'ansia del fatto che dovessi ricominciare tutto. Però il video non è finito quindi allora andiamo avanti. Un altro oggetto che per me è immancabile del mio zaino è un burro cacao perché ragazzi le mie labbra soprattutto in inverno si distruggono. Si distruggono, si devastano, un disastro. E anche in realtà una crema a mani sembra insolito ma in realtà serve perché le mani si screbolano sempre diciamo soprattutto come ho detto in inverno, in estate e ovviamente no magari però in inverno. Secondo me è molto utile. Questa qui in realtà è un pochino pochino oleosa quindi non è magari il massimo però può servire. Ok. Chiedo scusa se questo video ha avuto un pochino di caos in sottofondo. Comunque questi sono alcuni degli oggetti che ho nel mio zaino e che secondo me potreste avere anche voi ecco. Il mio zaino come ho detto è pieno di roba. Cioè pensare che io porto anche per dire delle salviette perché non si sa mai. Quella in bustina al limone che tu apri e hai una salviettina. Ho un minispecchio. Io porto letteralmente anche un minispecchio. Il mio zaino è pieno di roba sempre. Di tutto tranne che libri molte volte però. E niente. Quindi questo è. Spero che questo video che segna la diciamo ripresa della nostra solida routine vi sia piaciuto. Quindi. Cucu. 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 Adesso tocca a te. Iscriviti al canale se sei nuovo per entrare a far parte della Ops Community. E diventare un opsino se sei un maschietto. Altrimenti l'opsina se sei una femminuccia. Poi lascia un bel like se il video ti è piaciuto. E cosa importantissima commenta qua sotto cosa ne pensi. E niente dai questo è. Il video di oggi purtroppo finisce qui. Ma se tu vuoi restare ancora insieme a me io ti lascio. Di qua ho avuto un attimo di lapsus. Cioè di qua il mio video precedente. Di qua una mia playlist. E qua il tasto per andare sul mio canale e vedere qualunque video tu vorrai. Molte volte mentre faccio l'outro mi dimentico che cosa devo dire. Rido. Ad ogni modo. Io adesso ti mando un grande 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 bacio. E ti auguro la buonanotte va bene. Quindi. Buonanotte. 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 Buonanotte.